Hey gentaglia, bentornati, Breaking Italy Rewind, prendiamo i quattro video di questa settimana e strapoliamo dei commenti dei moltissimi che sono super interessanti sui quali passo troppe ore del venerdì perché sono interessanti ed è bello leggere discussioni che spesso mettono in crisi alcune delle mie posizioni ed è una cosa bella, è fantastico, è principalmente la ragione per la quale sono contento il venerdì perché posso leggere alcuni scambi fantastici e dire wow, avvengono sotto ai miei video è bello lunedì ho detto tra le altre cose che non ritengo Saviano essere una figura che rappresenti la sinistra ma che per qualche ragione è diventato un personaggio che è la sinistra tanto più la sinistra radical chic, no? che è più o meno come dire del comunista qualcuno ultimamente o del buonista, no? radical chic è un insulto che non ha senso in quanto insulto insensato come comunista è pressoché impossibile smontarlo perché è come dare del razzista qualcuno che infatti dice che non è razzista non può è l'insulto finale quindi viene largamente utilizzato buonista, radical chic e tutte quelle robe lì ad esempio quando danno del radical chic a me è fantastico non sono ricco, non vengo da una famiglia ricca difficilmente posso essere considerato un personaggio di sinistra però quando mi danno del radical chic non posso dire no, non lo sono perché che carta giochi, non lo so, dovrei, dovrei essere, non lo so, come faccio? è un attacco incounterabile, comunque navim dice scusa shai non capisco perché saviano non debba essere un rappresentante della sinistra, forse perché non è un personaggio politico sempre presente sulla scena ma solo in ambito mafia e mafia stato la ragione è esattamente quella perché saviano anche se è probabilmente un personaggio di sinistra anche se non lo so neanche nello specifico perché a sentirlo parlare qualche volta mi sembra così ma non l'ho mai sentito dire niente di sinistra no? che dici ok questa persona è un socialista ha questa visione dello stato anzi per alcune cose mi sembra liberale parla di... non lo so è difficile inquadrarlo però viene comunque associato alla sinistra anche se alla fine saviano parla solo di mafia unicamente di mafia, di lotta alle cosche, lotta al narcotraffico, parla di napoli continuamente dei quartieri degradati, parla del sud america e credo che lo si associ a un'idea di sinistra perché per lungo tempo l'idea di potere era a destra come adesso l'idea di potere è a sinistra ma non tutti si sono abituati a questa cosa quindi il PD è il blocco monolitico del potere da abbattere prima era il PDL no? il partito della libertà, delle libertà quindi immagino che automaticamente le persone abbiano inquadrato in saviano che criticava quel blocco di potere per le affilazioni e i clan che invece adesso vengono attribuiti al PD no? ora il PD, il partito dei mafiosi per quello ancora ci siano questi strascichi di saviano personaggio della sinistra credo che sia quella la ragione per la quale un giornalista che di fatto parla delle cosche bene o male, vi piace il suo stile e non vi piace, vi piace il personaggio e non vi piace non ce ne frega niente sia considerato di sinistra anche se la lotta alle mafie dovrebbe essere trasversale no? vorrebbe essere una roba a pannaggio di tutti i partiti, di tutte le forze politiche però la lotta alle mafie per qualche ragione nel nostro paese è di sinistra io non la capisco questa cosa oggi peraltro sentirete un casino perché in generale attorno al mio studio stanno costruendo 8000 palazzi tutti assieme da molto tempo, dal secondo dopo che mi sono installato qui dentro e oggi in particolar modo credo che me ne stiano costruendo uno proprio in bagno quindi c'è un casino e non posso farsi niente Daron mi scrive merita Forlì la polemica dice non riguarda il consigliare l'acquisto del libro di Saviano ma il fatto che per accedere all'incontro sia stato imposto tale acquisto tu dici di aver parlato con un insegnante della scuola comunque è stato dimostrato, ribadito più volte anche dal preside che l'acquisto non era obbligatorio, era consigliato ma anche se fosse stato obbligatorio, no? dovete comprare il libro, chi controlla? a me è capitato alle volte quando ero liceo che mi dicessero sei obbligato, devi comprare sto libro, lo devi comprare ma non testi normali, testi scolastici ma proprio libri da leggere ma poi nessuno controllava come fai a controllare che, non so, 300 ragazzi quanti avrebbero dovuto partecipare avessero letto quel libro? che fai, gli interroghi tutti, devi prima leggerti il libro tu magari sono proprio i docenti che non se lo leggono il libro per una ragione o per l'altra però se c'è un dibattito, se devi fare delle domande allo scrittore se lui deve parlarti di una cosa, devi conoscerla quella cosa sennò che dibattito è? non ha alcun... è come quando parliamo delle cose io vi dico, comunque i link sono lì, leggetveli se volete che ne discutiamo la mia opinione è questa ve la dis... ve la... no? ve la bozzo un pochettino però se non sapete di che parlate è inutile che cercate di argomentare grandi cose perché non lo sapete o è anche la ragione per la quale prima di dire la mia opinione faccio un riassunto delle cose destra e sinistra, non le due campane perché sennò di che stiamo parlando? se uno arriva e dice vi è piaciuto il libro ragazzi e nessuno l'ha letto che ci fa? Massimiliano non leggo tutto il tuo commento ma lo riassumo e tu dici una cosa che hanno detto in tanti me l'hanno scritta sia europeisti che anti-europeisti me l'hanno scritta tutti non tutti ovviamente, tutte le persone che hanno questa idea ovvero che Trump ha ragione la Nato sia obsoleta e sia obsoleta perché l'Europa dovrebbe armarsi di un esercito proprio e non dipendere così tanto dagli Stati Uniti per la difesa dei suoi confini che poi non è tanto la questione della difesa dei suoi confini quindi tocchiamo entrambi i punti partiamo dalla questione la Nato come forza di difesa non è proprio così è tecnicamente così però la ragione politica la ragione tattica dell'esistenza della Nato è fare il buttafuori in discoteca tu quando vai in discoteca non metti le mani addosso al buttafuori se sei molto ubriaco e fai l'errore di farlo normalmente le cose finiscono male per te perché? per varie ragioni innanzitutto il buttafuori è una persona che di base è lì per intimidirti quindi sta così con le braccia giganti è più alto di te ed è minaccioso di fatto fa quello di lavoro quindi già è una ragione per comportarti bene e per non fare eccessivamente il deficiente ma soprattutto tu sai che se proprio vai lì e sei anche tu gonfio perso vuoi mettere le mani addosso vuoi creare problemi e ti scontri col buttafuori e lui magari non ha la meglio su di te ci sono altri buttafuori che lo aiuteranno questa cosa è un ottimo disincentivo per metterti a fare delle cretinate alle volte qualcuno farà delle cretinate lo stesso però il concetto è quello disincentivare è molto semplificata detta così però è per stroncare sul nascere tutte le discussioni interessanti per carità io non ne so nulla di queste storie in merito agli armamenti chi ha gli armamenti migliori? ce li ha la Svizzera, ce li ha l'Italia, gli Stati Uniti e poi però ci sono gli appennini che permettono di fare questo e quello e poi le truppe, i parà non ne so niente gli armamenti moderni non so chi abbia i missili migliori non so chi abbia l'esercito migliore non lo so, i reparti migliori molti di voi sono super esperti di queste cose di mitragliatrici, di storie io non ne so niente mi piacerebbe leggere di queste cose ogni tanto lo faccio però non sono affatto un esperto e non ne parlo ma il punto non è quello se la discussione sta andando lì chi potrebbe vincere una guerra abbiamo già fallito la Nato ha già fallito in tal senso serve per evitare che la guerra scoppi perché ricordatevi una cosa un conflitto non è mai come un litigio in discoteca in realtà ma è più complesso di così è una cosa che si fa a freddo è un investimento io continuo a ripetere ad anni questa cosa la guerra è un investimento tu decidi di impiegare delle risorse impiegare dei mezzi impiegare degli uomini impiegare... mettere a rischio spesso la tua popolarità in casa per prenderti qualcos'altro no? è un dare avere è una questione di vedere quanto hai da un certo tipo di investimento se quell'investimento non è più così conveniente perché ti trascini in una lunga guerra perché scocci non solo una nazione ma tante nazioni e quindi il conflitto non è istantaneo non è entro in Crimea mi prendo la Crimea arrivederci ma è una cosa lunga che si trascina per anni e che potenzialmente è dannosa per te magari la vinci anche lo vinci anche quel conflitto ma non ti conviene più così tanto farlo ok? secondo punto questo video verrà lunghissimo e l'ho già capito sono d'accordo sul fatto che la NATO sia obsoleta sono assolutamente d'accordo ecco che vi stupisco di nuovo ma innanzitutto Trump ha un interesse personale per fare un certo tipo di cose un interesse nazionale chiamiamolo così noi abbiamo altri interessi l'Europa è debole l'Europa è politicamente debole e quindi ha bisogno della leadership americana so che molti detestano sentire questa cosa però è vero senza gli Stati Uniti vi possono piacere o no stare simpatici oppure no ci sono molti nemici degli Stati Uniti giurati sempre e comunque sotto a questi video però è così senza gli Stati Uniti senza la loro leadership che ci dice dove dobbiamo andare cosa dobbiamo fare perché noi seguiamo sempre a ruota nel bene e nel male l'Europa non ha un leader centrale chi seguiamo? seguiamo la Germania? seguiamo la Francia? ci dividiamo in due parti e se improvvisamente vince Le Pen in Francia e se ne va e dice no ma noi non andiamo con i tedeschi oppure da noi vince il Movimento 5 Stelle che dice no ma noi non andiamo più con nessuno cioè perché? perché non c'è un leader riconosciuto in Europa un esercito europeo che io auspico io auspico che ci sia un'unità sotto tanti aspetti anche perché risparmi tendenzialmente l'ho detto alla razzi anche perché risparmi avendo un esercito unico ha senso anche a livello tattico per un sacco di ragioni ma sinché non c'è un'unità politica un'unità fiscale che deve assolutamente seguire quella politica un'unità militare non ha senso parlare di superarla a Nato la si può superare soltanto quando c'hai le cose a posto in casa ma se c'è la casa senza il tetto non ha senso trasferirsi dentro perché poi ti piove in testa e ora sembravo Bersani martedì invece è strapieno di discussioni interessanti molto molto accese ma molto ben argomentate sono dei lunghi papiri ogni commento mezz'ora per leggerlo quindi prendo il tuo commento Kaiser perché descrivi una delle due posizioni dominanti io non ho una posizione dominante in merito parliamo dell'accordo costituzionale tedesca che ha deciso di non sciogliere il partito neonazi perché non lo ritiene un pericolo per la costituzione a parte che un sacco di persone mi hanno detto di non essere d'accordo con me ma non è una mia opinione è la corte costituzionale tedesca che ha deciso di fare così non mi hanno consultato questo mi ha offeso mi ha offeso profondamente però hanno deciso di non consultarmi conseguentemente è inutile che insultate me mi dite ah Shai non hai capito proprio un cazzo non è così ma l'hanno deciso loro io stavo riportando i fatti Kaiser tu dici di essere dell'opinione che qualsiasi partito o movimento politico possa esprimere le proprie opinioni anche se sono così estreme da sfociare nel fascismo comunismo a parte che nel farlo vengono rispettate le regole imposte dalla costituzione ehm io sono molto indeciso su questa cosa perché da una parte sono di fatto ultra democratico quindi si la democrazia come bene assoluto e democrazia significa non censurare nessuno anche chi ehm esprime delle posizioni molto antidemocratiche e sin lì ci sta quindi vuoi girare con la bandiera ehm con Hitler sopra per me lo puoi fare poi la svastica ehm i fasci vittori saluto romano per me ci può anche stare non se te lo impedisco in effetti mi sto mettendo in una posizione ehm superiore alla tua e ho sempre paura di qualcuno che arbitrariamente dice questo va bene questo non va bene e sin lì ok d'altra parte sono anche d'accordo con chi dice che la democrazia non arriva dal cielo non è una cosa che ci siamo guadagnati e quindi l'abbiamo bloccata e rimane la democrazia va difesa continuamente perché non è l'ordine naturale delle cose anzi è molto innaturale la democrazia è un sistema che necessita di complesse regole che necessita che si segua un certo tipo di comportamento necessita di alti livelli di informazione della popolazione cosa che è opinabile sul il suo raggiungimento a specie in Italia è molto discutibile è un sacco di altre cose quindi non è un ordine naturale l'ordine naturale è il più forte che comanda sul più debole ehm e questo spesso non è giusto non è nemmeno il migliore dei modi perché non necessariamente la persona più forte sa bene dove sta guidando la macchina spesso non lo sa affatto ma siccome pesta tutti facciamo guidare lui e poi andiamo tutti quanti nel precipizio la storia questa roba ce l'ha insegnata quindi la democrazia non nasce sugli alberi bisogna proteggere eh proteggerla da chi la vuole distruggere ehm quindi a un certo punto la mia parte pragmatica prende il sopravvento io sono una persona dopo tutto pragmatica quindi a un certo punto si è discusso si è parlato ci si è divisi mille partitini mille movimenti mille correnti eccetera ma qualcuno a un certo punto deve fare il leader deve prendere tutto quanto fare una sintesi di tutte le volontari di tutte le opinioni e prendere una direzione e quella direzione ovviamente non può essere vabbè allora distruggiamo la democrazia perché però per fare questa roba qui devi dare un'interpretazione alla parola libertà perché poi è tutto lì devi avere la libertà di fare questo 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 e quello ma libertà non è mai libertà assoluta in effetti noi non siamo assolutamente liberi siamo un po' liberi siamo liberi nei limiti previsti dalle regole dalla costituzione dalle leggi dal codice penale ehm non è che siccome io sono libero posso andare in giro a sparare addosso alla gente perché non ho nemmeno la libertà di averla quella pistola proprio perché la libertà di avere quella pistola mi è negata in modo che io non possa togliere la libertà agli altri di non essere colpiti da proiettili vaganti soltanto perché mi gira il cazzo non lo so sono molto indeciso in merito c'è proprio un conflitto dentro di me ehm e dovete anche tenere presente un'altra cosa ehm come la proteggi la costituzione perché tu potresti dire vabbè io non sono d'accordo tutta la libertà per tutti quanti ma non per chi va contro la democrazia e vuole distruggere la costituzione va bene ehm vuole quindi negare la libertà delle persone ok non vogliamo che questo accada ma come lo impedisci? lo impedisci distruggendo un partito bannandolo perché ehm in Italia in effetti questa cosa non ha mai ben funzionato in Italia ehm è vietato cercare di riportare in auge il partito fascista ehm c'è proprio la legge di apologia di fascismo che lo vieta sei punito se cerchi di ricreare il partito fascista ciò nonostante esistono partiti di chiara ispirazione fascista e semplicemente lo fa lo sono aggirando le regole quindi non chiamandosi fascisti a una persona se le impedisci di pensare una cosa in realtà non le impedisci niente semplicemente porti il suo voler fare una certa cosa da una situazione di legalità a una di illegalità ma continuerà a farlo un'altra parte di me dice sì però se non lo vieti ehm lo stai legittimando e quindi le persone potranno dire ah ok perfetto quindi votare un partito democratico è come votare un partito autoritario è praticamente la stessa cosa e no non lo è noi lo sappiamo bene ma molti non lo sanno ehm il punto cruciale è quando un partito raggiunge la massa critica per essere abbastanza seguito perché poi tutto il resto delle persone proprio a livello massiccio inizia a seguire quel partito e a farne una forza che poi non può più essere fermata qual è il punto ehm il punto di rottura proprio il punto nel quale si raggiunge la massa critica credo che una delle cose migliori che si possa fare è che in un certo senso si è fatto ehm ma involontariamente perché poi movimenti di estrema veramente estrema destra e di estrema 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 sinistra ehm vengono vengono mitigati da altre posizioni che quindi frammentano l'elettorato ma se io domani dovessi presentarmi e dire hey secondo me il modo migliore di agire in questo momento lo faccio per il bene degli italiani è condannare a morte quindi riportare la pena di morte e condannare a morte tutti gli immigrati tutte le persone che in questo momento siano degli immigrati irregolari li prendiamo la polizia ha il potere di trovarli ehm se non hanno i permissi di soggiorno eccetera noi li portiamo in carcere e li ammazziamo perché bla 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 se le persone mi trattano come un deficiente mi lasciano su twitter a sbraitare questa cosa con mille follower non ho potere però se le persone iniziano ad ascoltarmi e mi portano in televisione io davanti a Lily Gruber dico questa cosa e quindi a un certo punto il mio messaggio che ovviamente risuonerà potente nelle teste di chi effettivamente pensa che la benzina sia la soluzione per tutto ehm a un certo punto quella roba lì diventa pericolosa ehm quindi non so nemmeno all'atto pratico quanto intelligente possa essere bannare un partito e dire nope voi non potete esistere rispetto a lasciarli in un recinto controllati a dire le loro cose contro gli ebrei contro tutti ehm dove non possono danneggiare nessuno perché poi un certo tipo di persona esisterà sempre non esiste che cancelleremo la xenofobia non cancelleremo mai il sessismo molte cose rimarranno radicate per centinaia d'anni perché perché sì perché le persone sono fatte così mercoledì Christian Ice dici gli Stati Uniti paese egemone militarmente cek economicamente cek culturalmente lol e anche da lì parte una lunga discussione in merito a ehm se sia effettivamente un paese egemone culturalmente o no ma dipende semplicemente dal significato come peraltro tu e anche altri hanno sottointeso ehm che si dà a cultura se parliamo di cultura classica se parliamo d'arte se parliamo poi arte è una parolona non entriamo in che cosa sia l'arte perché non riusciamo più se parliamo di cultura classica di un certo tipo di cose ehm ni se ne può discutere se però parliamo di cultura di massa di cultura popolare ma anche di cultura artistica contemporanea ehm gli Stati Uniti sono secondo me il paese egemone ehm gli Stati Uniti sono ciò che noi guardiamo per avere un riferimento sulle cose ehm su ogni cosa perché hanno più soldi perché hanno più risorse perché hanno delle industrie gigantesche ma anche culturali tipo Hollywood tipo Broadway che noi non abbiamo quindi ehm il giornalismo i giornali i migliori giornalisti sono i migliori emittenti i migliori ehm le migliori strutture sono americane quindi tutti dicono vediamo cosa fanno gli americani vediamo come lo fanno gli americani e da lì eh poi noi importiamo noi siamo molto ehm dipendenti dagli Stati Uniti per molte cose perché li guardiamo come un cugino più grande poi molti fanno notare che la vera cultura americana gli italiani non la conoscono ed è vero eh ed è per quello che ci sono poi i video che anche eh eh ne abbiamo già parlato di persone che vengono in Italia e dicono sono americane guardate che oppure il contrario guardate che le cose sono diverse c'è una differenza tra l'ideale tra l'idea che noi abbiamo di America e la vera America e non sto dicendo che l'America sia meglio a livello culturale però effettivamente noi ne subiamo l'influenza noi parliamo ehm inglese guardiamo film americani guardiamo serie tv americane cerchiamo di fare le serie tv ehm come gli americani quindi quando guardiamo le nostre diciamo ma queste film sono una merda non sono come Breaking Bad e quando vediamo Gomorra diciamo ok Gomorra è molto più americano come concetto e quindi improvvisamente anche Gomorra inizia a influenzare serie tv fatte fuori come Narcos quindi c'è effettivamente una posizione egemone degli Stati Uniti nei confronti di tutti utilizziamo siti americani ehm youtube è un servizio americano è internazionale adesso però è americano è la maggior parte delle star sono americane quelle molto seguite i più grandi registi o sono americani o lavorano negli Stati Uniti la stessa cosa per i ricercatori grandi astronauti che noi ricordiamo sono americani la NASA è ciò che nella testa delle persone è il viaggio spaziale anche se c'è l'ESA anche se ci sono i cinesi comunque la NASA è il punto di riferimento in quel senso secondo me gli Stati Uniti continuano ad esportare cultura we've got trouble invece parliamo di black humor e dei tizi che ballano con il cartello con scritto kill all Jews e tu dici a me non ha fatto ridere non che sia moralista o cosa ma insomma c'è scritto morte agli ebrei non c'è nessuno spunto che faccia ridere neanche il fatto che lo ballino due indiani fa ridere quello che fa ridere secondo me è un'opinione non è il cartello in sé è il fatto che sia fuori luogo è il fatto che sia sbagliato che questi due indiani ballino con il cartello con scritto quella roba lì è proprio il contesto che mi fa ridere perché ciò che fa ridere e non fa ridere è una roba così complessa che è difficile da limitare cioè non la puoi limitare a semplicemente la battuta è una battuta che faccio io magari fa ridere ma se qualcuno la ridice in un'altra situazione con un diverso carisma con un diverso tempo a un diverso pubblico non fa più ridere magari diventa inappropriata magari diventa la ragione per prendersi a pugni alcune persone molto più triggerate di te mi hanno detto eh ma immagina se i due indiani avessero ballato con un cartello con scritto sopra morte al padre di Shai me lo ricordo questo commento non è la stessa cosa innanzitutto perché è una roba è diretta una roba è indiretta io non mi offendo se si dice non lo so se si fa una battuta sui non lo so sui bombardamenti a Cagliari degli americani adesso non so che tipo di battuta puoi fare le famose battute tipo su Nagasaki no? io ho dei parenti che sono stati provati diciamo così per rimanere sul generico dai bombardamenti a Cagliari o dalle prigionie avvenute in guerra parliamo di millenni fa no? è lo stesso periodo a me questa roba non è che fa arrabbiare chiaro che se capisco che è una battuta se dipende sempre dal contesto lì il punto una cosa che io stesso posso dire la posso dire ai miei amici magari una battuta razzista la posso fare perché i miei amici sanno bene che qual è la mia posizione nei confronti di chiunque a prescindere dalla razza un mio amico fa una battuta razzista io lo conosco e capisco che è una battuta e quindi accetto anche che sia una cosa terribile la cosa peggiore che si possa pensare ma se poi poco dopo vado dal medico e una signora che ne so impazzisce contro una persona nera lì e dice la stessa cosa che ho detto io 5 minuti prima ma a un mio amico io mi arrabbio mi arrabbio molto perché il contesto è differente e anche se gli fa una battuta e gli dice ehi tu negro di merda per fare uno scherzo non ci sta cioè non è una situazione nella quale lo puoi fare anche se magari io prima ho detto la stessa cosa a un mio amico nero magari perché il contesto e il rapporto e un sacco di altre cose la rendono una battuta e lo rendono accettabile mentre quello che dice la signora dal medico che sia una battuta o no non è accettabile è il contesto la cosa importante ultimo giorno giovedì Tommaso tu dici non esiste il c'è chi dice che quattro anni siano pochi troppi referendoti ovviamente alla decisione del tribunale di condannare a quattro anni di reclusione ai domiciliari ammedeo mancini per la questione del litigio con emmanuel namdi quello che decide il giudice è la bibbia punto no Tommaso attenzione quello che dice il giudice va rispettato le sentenze si rispettano quindi il giudice ha deciso quella roba lì è sicuramente più autorevole di qualsiasi altra persona possa esprimere un giudizio c'è stato un tutto un iter procedurale che si è rispettato e quindi quella roba lì si rispetta però non è che non la si può criticare cioè non è che la bibbia come hai detto tu quello che in qualsiasi giudice dice non è così che funziona è semplicemente una sentenza la sentenza si rispetta la si considera importante la si considera decisiva se è arrivata al terzo grado di giudizio in questo caso non si continuerà nel processo ovviamente ma non è Dio che ha detto una roba sulla quale nessuno può mettere bocca chiunque può comunque esprimere un'opinione e dire secondo me è troppo secondo me è troppo poco perché la legge poi è stata scritta da esseri umani di nuovo non ce l'ha mandata Dio e le leggi si modificano dipendentemente dagli umori del popolo dipendentemente dalle volontà politiche quindi un giudice non fa nient'altro che far rispettare delle leggi che sono state decise precedentemente da altre persone tutto il sistema va rispettato perché se non rispetti il sistema allora non ha più senso niente le professionalità vanno rispettate quindi non puoi dire secondo me il giudice ha sbagliato la procedura a meno che anche tu non abbia quel livello di preparazione e comunque devi rispettare la sentenza lo stesso però non è che non puoi criticare puoi criticare ogni cosa si può criticare tutto altrimenti viviamo cioè tutto il discorso della democrazia va a cagare in tutte le cose c'è sempre un equilibrio e alle volte per mettere in equilibrio una bilancia devi aggiungere più peso su un piatto rispetto a un altro no? perché altrimenti blam quindi magari devi semplicemente metterla in equilibrio così però un equilibrio c'è se tu esageri da una parte e dall'altra in ogni caso questo è universale finisci per avere torto quindi gentaglia è tutto questo video è venuto fuori lunghissimo speriamo di riuscire a pubblicarlo perché in realtà devo andare dal dentista non gli frega niente a nessuno quindi e poi io vengo pagato a minuti no? al dipartimento di stato americano il PD mi danno dei soldi per i minuti che passo a difenderli e anche se adesso è finita la pacchia perché Renzi non c'è più però c'è Gentiloni in effetti me li da lui i soldi mentre al dipartimento di stato stanno i repubblicani quindi devo ancora cercare di vedere se posso ancora devo comprarmi l'attico ok ho bisogno di un attico fate i bravi buon weekend che io passerò facendo il muratore anche questa fine settimana e ci vediamo lunedì